è un set che è stanca sì perché poi gli attori neanche mi ascoltavano non avevano capito che c'erano davanti è perché ancora ragazzi io ho girato l'ultimo minuto la signora con la scopa in bocca non so se ti ricordi l'ho fatta io è venerdì e già lo sai la morbidezza la coglierai su youtube e su spotify basta che mi play cash for podcast un podcast morbidissimo buongiorno e benvenuti alla terza puntata di cashmere un podcast morbidissimo come andiamo? bene bene come andiamo? o come la gola a sé mi mancano magari compariranno ci saranno dei crudini fra un po' sono un attimo secondo me fra poco appaiono magari succede qualcosa per cui appariranno come stai tu? bene 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 è una settimana particolare questa no? sì perché è l'ultima prima di Halloween oddio che palle mo' è Halloween che rottura di coglioni vabbè se no ti giuro me l'ho scordato è un mese che rompono i coglioni con chissà quanta gente si vestirà da Squid Game eh lo so tanta gente si vestirà da Squid Game speriamo nessuno sai da cosa non si travestirà nessuno anche se sarebbe un grande attraversamento da Barbero il nuovo personaggio di Halloween il nuovo cattivo di Halloween ah certo certo perché mix medioevo grande rispetto sempre totale per il professor Barbero per il professore al quale dobbiamo tutto però diciamo ancora ci scusiamo che a un certo punto lo superammo su Spotify ma non voglio tornare su questo tema ancora ci scusiamo ci spiace e l'abbiamo superato avremmo voluto superarlo forse lo superiamo anche a livello di come gestire un'intervista quando ti fanno certe domande di shitstorm di shitstorm non lo so non lo so non è ancora successo non è ancora successo capiterà sicuramente diremo qualche stronzata anche noi capita a tutti quanti però vabbè voglio dire insomma sì vabbè dai insomma è stato frainteso è stato frainteso forse è stato frainteso forse no sai cosa che le interviste vorrebbero andare solo in video cioè se noi avessimo un grande ospite non vorrei mai leggere quello vorrei solo vedere in video così capisci l'intenzione tutto quanto quello che ha detto è vero è vero è vero anche perché la gente legge soltanto i titoli delle vabbè chissà se nel podcast sicuramente anche noi diremo qualche minchiata ma sai chi ci potrebbe fermare da dire delle grandi minchiate come sempre dato dalla sua statura morale è il dottor Taye Russein come state? buongiorno buongiorno a tutti c'è un po' di raffreddore allora io malattia vengo la puntata e tutto quanto tu pure sei preso per culo sto più della che di qua voglio l'indonità da lavoro su Ranta ragazzo ho scritto la soggiella sei uno di quei giovani io chiamo il sindacato David Omegar è molto forte mi sembra in Italia rappresentato da Citto Maselli in sede a Rottelli cioè chi è che partecipa? Carmelo buongiorno come andiamo? buongiorno buongiorno bene è meglio di Tahir sicuramente eh no infatti ti sento oh ma posso dire che qualcuno intanto ringraziamo sia Tahir che Carmelo per la straordinaria sigla che abbiamo quest'anno di Kashmir Podcast ho letto il terzo episodio ringrazio sì ringrazio il terzo episodio perché comunque insomma non si non è mai troppo tardi vado quelli da cato vado a cazzo sta puntata esce l'uledì c'è un commento c'è un commento che è uscito sotto la sigla una ragazza una gentile ragazza che ha scritto ma Carmelo ha una voce strappa mutande ne vogliamo tener conto di questa cosa? beh sì è vero Carmelo dicine una per questo devo stare attento a non parlare troppo in pubblico oh my god Carmelo fantastico e salutiamo proprio di strappare le mutande le ragazze ciao ragazzi ciao ragazzi siamo tornati alla formazione di un microfono in due non è vero guardate le vostre spalle c'è un secondo microfono scusate perfetto provatelo ciao Paola e Chiara come direbbe Barbero sono le donne che non si rendono conti no scherzo non è vero era un problema strutturale era un problema strutturale poi dopo spiegheremo perché non c'eravamo resi conti quando poi parleremo di strutture esatto struttura che in questo podcast non è conosciuta perché noi improvvisiamo certo però i podcast sono un po' se vogliamo le nuove ti ricordi te ricordi ma tu te ricordi 2012 2013 le web serie eh cioè ricordiamo senti allora noi siamo un brand ci occupiamo principalmente di non lo so rasoi per cavalli e vorremmo fare le web serie con te che dovrebbe andare sul resto del carlino ci piace tantissimo come lavora adesso abbiamo questo cliente tinter voi siete sicuri che sia una buona idea a fare una web serie sui cavalli sono dieci episodi da otto minuti Edoardo Ferrari è a cavallo che cerca di depilare un baio di non so quanto 200 kg il resto del carlino ha un bacino se non sbaglio di 41 lettori no? soprattutto sul sito internet ma questo pre-covid post-covid mi sa che sono rimasti ho la sensazione che se mi sporgo dal balcone di casa e parlo ai condomini mi vedono più persone c'era quel momento di ubriacatura sì 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 vabbè però effettivamente le web serie sono state a un certo punto il modo per esprimersi per fare contenuti sul web sono state anche più della televisione anche delle cose insomma delle web serie straordinariamente belle divertenti c'è stato l'epoca d'oro delle web serie circa 2014 beh diciamo che da The Pills l'età classica delle web serie è vero è vero anzi no da Fricks da Fricks Fricks si chiamava cioè la prima fu Fricks quando si unirono gli Avengers cioè Di Biagio Will Wush è vero è vero è vero Cane secco tutti quelli che iniziarono su YouTube però scusate invece quell'altra Lost in Google era successiva Lost in Google è sui Juggal eh certo era dei Juggal quella lì e poi arrivava i Peels poi arrivava il terzo segreto di satira poi arrivò i bellissimi esami sai cosa non arrivò la mia web serie che fece per Repubblica vista solo dalle persone che non dovevano vederle ogni episodio faceva arrabbiare qualcuno finché poi c'è strupo il Bataclan per dargli una bella legna è vero perché tu è vero io uscivo la puntata sulla Tunisia in quel momento e da Repubblica mi dissero però vedi ma scusa io per esempio esami fu una cosa che nacque perché io volevo fare una web serie ma in realtà anche perché vedi The Pills pensavi però si può fare una cosa su YouTube senza tirare un pano il cazzo quindi ho pensato facciamo questa cosa su YouTube e la pensai proprio per gli universitari che non studiavano perché l'idea mi venne in biblioteca io ero lì tutti quanti erano al computer e pensavi vedi può essere una buona idea fare qualcosa per intrattenere queste persone con la felpa Phi Delta Omega cioè io ti immagino come uno studente a Boston all'epoca sì sì certo a giurisprudenza c'è lo stesso identico ambiente la stessa cosa e quindi vabbè e il Mark Zuckerberg delle web serie esatto questi ragazzi non hanno nulla che li intrattenga davvero facciamo un prodotto che pare no però avevo l'esigenza di parlare dell'università all'epoca e e lo feci su youtube certo producendo la tu facendo tutto con Cecilia poi con Matteo esatto girata con Matteo che è Maurizio Montesi esatto con cui ci siamo molto divertiti anche a fare poi post esami che è il seguito nel quale c'è una delle cose di cui sono più fiero che è il documentario su Amedeo Lapotta in cui il professore Amedeo Lapotta ripercorre tutte le decadi della storia d'Italia parlando e con la sua grande passione per la musica in cui si misurano anche le mie abilità canore che io veramente dico andatevelo a vedere pensata per youtube nel senso che era pensata per youtube te sei sentito un pochetto un regista quando lo facevi allora un pochetto sì un pochetto sì è vero sto campo e contro campo come è il linguaggio di regia era campo contro campo su te stesso però è vero che facevo due personaggi esatto quindi era un po' complesso però alla fine poi fu un linguaggio che nel suo essere essenziale tutto sommato funzionò bene tu non avevi pensato a fare una una web serie per youtube no perché io lavoravo scrivo con i con i Pils e quindi in quel momento loro stavano per girare il film a me arrivò questa proposta di fare una cosa effettivamente brandizzata che c'è la Repubblica di mezzo e pensai va bene la faccio ma è come se mi avessero detto ti vuoi fare uno show che dovrebbe andare a mezzanotte su Italia 1 però te lo facciamo fare su Rai 1 alle 2 di pomeriggio della domenica e ho detto sì va bene ottima idea e l'ho pagata caramente ci tenevo tantissimo però è stata vista adesso l'ho messo l'ho messo io su youtube chi vuole vederla non c'è problema grande serie e non riesco neanche a parlarne con un poca non mi spezza il cuore no però poi dopo ho fatto altro sono molto contento però la serie era divertente era divertente non ero io la tua gente all'epoca ah ecco non eri tu la mia gente durante non c'è problema sono diventata la tua gente pensa quanto ero entusiasta del mio agente di allora sì 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 ma dacci sua e no me lo ricordo bene abbiamo trovato questo spottino ma in realtà io credo che loro perché c'era tutto il filone quello della mamma imperfetta cioè c'erano anche le webserie che poi andavano sulle pagine le webserie serie esatto le webserie triste la mamma imperfetta fu un grande successo per la fascia d'età un enorme quarantenni come no come no quella specie di black mirror di repubblica c'era tipo qual era sì c'era una serie tipo sulle cose digitali tipo sul ah beh ma per repubblica ne fece due insieme fece la mia e fece un'altra che si chiamavano connessioni connessioni ragazzi la black mirror del 2014 sembra tipo incantesimo però per il web scritta da sì sì ma infatti a Charlie Brooker gli avevano detto vuoi farla su BBC o vuoi farla su Repubblica e gli disse facciamo su BBC e poi alla fine dove hanno fatto su Repubblica connessioni esatto esatto che era diverso è uscito prima la mia per quella e fui massacrato ma volevo spezzare una lancia in favore di Ezio Mauro che mi difese di fronte al sindacato se si chiama così non so dei commercialisti l'ordine dei commercialisti che volevano la mia testa su un piatto pensavo volessero le fatture no mi volevano morto per un episodio che avevo fatto però grandi sogni quanto è bello sai come è nato il video assist grazie a Jerry Lewis che dirigeva interpretava un film e ha creato un sistema ha detto devo rivedermi ma veramente la comicità a volte ha portato anche delle innovazioni vedi quei campi e contro campi tu ne avevi bisogno se sono a girare probabilmente avevi bisogno di rivederci subito ma certo ma per forza se non mi rivedevano anche perché poi era veramente sempre lo stesso personaggio ma quanto è bello stare sul set sul proprio set tanto la mia la diretta a mio gran amico Sebastiano Facco io non sarei mai stato capace di dirigerla no 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 io la diretta da Matteo Keff e Maurizio Montesi però ti senti ovviamente parte del tutto sono sul set no è una sensazione stupenda perché poi è una sensazione di controllo bellissima in una cosa estremamente caotica e no è una cosa veramente emozionante capisci perché poi ci sono persone che hanno perso la vita per provare a fare i registi per provare poi capisci anche che ci sono quelli che ci riescono perché è così dura andare avanti durare tanto tempo è un mondo bellissimo affascinantissimo durissimo durissimo sì devi veramente reggere tanta pressione però vabbè tu parli male della tua serie no 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 io parlo molto bene parli bene della tua serie parlo molto male me la prenderei se vogliamo con la distribuzione no della serie parlo bene con affetto ma è una mi spiacque perché allora pensavo scusa Jackal Cosi The Pills Esami adesso non può che no la sensazione che uscire sul Repubblica e non su Youtube come mi disse Valerio Lundini mi disse è proprio sbagliato completamente questo fatto di vederla sul Cattaccio no Valerio è uscita sul Cattaccio ecco perché non ho visto un cazzo però quindi secondo te quante persone hanno visto non c'è problema veramente poche cioè c'era un momento in cui c'era il counter veramente veramente poche ma aspetta vediamo se lo riesco a ritrovare se lo riesco a ritrovare c'è una cosa che mi ha cambiato completamente la percezione di quella serie perché fu vista anche oltreoceano mi arrivò una sera un messaggio all'una e mezza di notte che diceva complimenti per le vostre clip così lo aveva chiamate siete tutti bravi sono scritte bene gli attori tutti perfetti tu scrivi reciti anche bene ma cosa ti piace di più come vi siete messi insieme a fare questa cosa insomma come sono nate avete un contratto hai copioni che hai scritto io cerco gente che scriva insieme a me se vuoi ci sentiamo ci conosciamo sono a LA adesso ma possiamo fare una Skype se vuoi e quella persona era Gabriele Gabriele Muccino è stato il momento il momento forse più bello legato a quella serie che avevo fatto per Repubblica perché ho detto dagli Stati Uniti ma che cazzo sta succedendo e è stato un momento che mi ha cioè il sogno penso di qualsiasi giovane filmmaker autore è bello bellissimo c'è il piccione c'è il piccione allora lo vedi che qualcuno la vista la vista che è pregato del piccione infatti adesso avremo modo di parlarne tu hai una passione ce l'hai ancora? sì è sedata controllata però se avendo un piccione adesso qua è un po' mi eccito ah veramente? mi piace il contrario di Luca Ravenna che invece è pigionfobico siamo in tre al mondo siamo io te e Mike Tyson a gestire questa cosa anche Mike Tyson ha paura di piccione no lui è li amo come me ah ok grande amante lui è ancora oggi ho visto foto recenti veramente tra l'altro ha anche delle specie che ho anche io perché i piccoli non è che sono piccoli di piazza San Pietro eh certo immagino è una colombia è una è tutta un'arte è come i cani insomma i cani le razze selezionate specializzate quelle che si coprono 3 mila chilometri in volo e c'è un piccione che valgono anche 50 mila euro perché un piccolo viaggiatore che vince le gare lungo insomma le vere varatone quelle da Mosca a Bergamo non so e quelli là c'è un tale business quasi come i cavalli pensate e anche i piccioni come i cani alla fine tendono a somigliare ai propri padroni no questo no io volevo somigliare a un piccione ma non sono riuscito mai questa è una storia che ne abbiamo scoperto leggendo il libro che è appena uscito esatto la vita addosso di Gabriele Muccino ancora di Gabriele Niola che è appena uscito per Utet e nel quale racconti non soltanto della tua passione per i piccioni io quando l'ho letto sono rimasto devo dire un po' colpito un po' turbato ma racconti di tutta la tua esperienza come regista sia in Italia che in America è un libro che ci ha colpito molto perché non c'è soltanto appunto il racconto così pedisse dei film ma c'è veramente il racconto di cosa significa fare questo questo mestiere oggi sia in Italia ma soprattutto all'estero sì beh sì è un racconto planetario perché avendo avuto opportunità così grosse così esponenzialmente superiori a qualunque cosa avessi desiderato perché la vita mi ha superato sempre in qualche modo è stata un po' avanti rispetto alle mie aspettative prima nel bene poi a un certo punto anche nel male tutto giù è andato non funzionava niente poi mi sono forzato a rialzarmi come si dice quando cadi ti devi rialzare ho trovato il modo di rimettermi in moto ho sentito che l'Italia era il posto dove mi sarei ricostruito l'anima che era stata abbastanza allogurata e consumata da quel meccanismo industriale ma anche sano possiamo dire un meccanismo sano quello di Oliver è un'etica che proprio ti rilascia amicizia prima un po' all'inizio ci si devono usare c'è il convivio c'è la realtà c'è la memoria di chi sei e se lo ricorderanno dopo 10 anni per te hai fatto quei film quindi quanti whatsapp ti arrivavano ogni tanto per dire Gabriele come stai mi sei tornato in mente perché che ne so ho visto un piccione che camminava per San Sede cioè è così disumano come il luogo rispetto al resto del mondo beh per me l'Italia quindi io rispetto all'Italia è disumano sì poi io ho vissuto l'America in tante sfumature prima sono stato portato lì come sulla capito sulle cose degli portantini come un papa come un papa da Will Smith che diceva lui è l'uomo è il messia lui è l'uomo con cui io devo lavorare o lui o nessun altro perché fece veramente una cosa così lui che non è molto frequente che Will Smith si affezioni in questo modo a un regista è impensabile, ancora io oggi non capisco che gli sia frullato per la testa perché lui, è vero che vede l'ultimo bacio per una serie di coincidenze incredibili che nel libro racconto è vero che lo incontrai per 20 minuti a Parigi, 20 minuti perché stavo nel mezzo di un junket per promuovere Hitch lo incontrai a Parigi perché non potevo parlare al telefono avevo paura di parlare al telefono in inglese per i motivi che racconto nel libro il mio inglese era tantamente incomprensibile, già l'italiano lo lasciamo stare ma l'inglese proprio neanche i vocaboli avevo almeno quelli italiani hanno vocaboli frastagliati quelli inglesi non c'erano proprio quindi, insomma, decisi di incontrarlo fisicamente perché almeno il linguaggio del corpo forse mi avrebbe aiutato e io con due o tre cose che gli ho detto tra cui quella che lui ricorda di più e citava di più era un americano non può raccontare il sogno americano perché c'è stato troppo dentro io l'ho venuto da fuori sì a un certo punto ha fatto una scena si è stato in piedi ha detto io 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 che cazzo tipo sai quelli che fanno quelle messe ah tipo i predicatori predicatori capito io io e stavo lì sotto c'è cazzo cazzo che ho detto you will count Hollywood with me un po' così capito quindi è stata proprio cioè un'iniziazione un'iniziazione ti ha scelto e ti ha portato sì mi ha scelto e io pensavo che non succedesse anche perché avevo avuto esperienze un po' tu avevi già lavorato infatti in America no avevo tentato avevi flertato infatti sempre con la cosa del avevo flertato con Harvey Weinstein che ho detto così però avevo avuto un contratto per due film con Harvey Weinstein perché allora in quegli anni era una cosa grandiosa perché Harvey Weinstein aveva il carisma del cattivo sì era proprio era scuro nero però era un cinefilo vero autentico vinceva Oscar ogni anno quindi comunque era un'eminenza grigia grigissima però davanti al padrino davanti al padrino tu stai certo stai composto e ascolti e c'è una sorta di di fascinazione forte per queste persone però con la mia Max non funzionò perché poi i film non si fecero dovetti stavo per fare un film con Al Pacino che non si fece anche quello questione di nuance quella la famosa nuance perché Al Pacino era insicuro del mio inglese era molto sicuro lui è insicuro flaccido su tutto perché Al Pacino purtroppo non ha avuto più il successo clamoroso planetario che ha raggiunto fino a Scarface incluso ovviamente e per cui fuori dai ristoranti mentre a Will Smith lo fermano per i film fatti due anni fa per qualsiasi cosa per De Niro idem a lui lo fermano per il padrino per Scarface e per cui è fermo nel tempo questa cosa gli ricorda ogni volta quando lui non abbia più fatto nulla di memorabile da vent'anni da vent'anni no forse trenta quando è Scarface sa che iniziano anni 80 tipo 84 quindi anche uno come Al Pacino rosica tipo il quiz abbiamo qui il notaglio il notaglio dice è il notaglio poca terra è il notaglio poca terra il notaglio ha detto che 84 mi dispiace Al Pacino insicuro fraccico è un bel titolo anche per Al Pacino che rosica perché non gli vengono riconosciuti gli ultimi film che ha fatto sì ho visto che soffriva di questo e la sofferenza crea insicurezza e lui era molto insicuro pensate e quel film lì sarebbe venuto bene se mi avesse dato fiducia perché nel combo che io avevo scelto che era lui con Rosario Dawson che era sconosciuta però aveva fatto bellissimo provino con lui e si amalgamavano bene perché lui era un professore che si innamorava di una studentessa di una studentessa era l'animale morente era l'animale morente di Filippo Finché poi hanno fatto con Ben Kinsley ma brutto è diventato un po' tutto quello che io tirato anche perché Gandhi nella parte del professore non c'è che mi è non si può vedere non c'è ti fa senso io avevo un po' di paura su questo comunque insomma quel film si fece il gioco cioè in realtà davo le insicurezze davo i miei bracci di ferro con lui perché lui voleva alla fine voleva pennello per Cruz e io invece volevo Rosario Dawson vado a casa sua a Natale giocavo a scacchi io mi metto lì in attesa di capire quando perché mi avessi convocato mi fa sedere a un certo punto davanti alla scacchiera di cui io non conosco nessuna regola quindi nell'inglese e negli scacchi niente avevo messo un disagio completo hai detto dama tra l'altro lui è sul divano invece è stato sul pavimento cioè solo il tappeto quindi ha anche come c'hanno i scemi in il dittatore capito lui c'è lui era anche più alto che è basso che è bassissimo notoriamente si era messo anche più alto quindi mi sodastava e mi chiese ma tu sai cosa sono le nuances checkmate stavi imparando le regole è lavoro mio è casa mia è i nuances è casa mia ma che stasera ce lavoro con i nuances dico yes e no yes and no ma yes and no nuance è una parola poco usata però significa sfumature la sfumatura nella direzione di un attore da parte di un regista o o nella gestione proprio di una storia d'amore è una delle parole chiavi sì perché vuol dire se tu non non riconosci le sfumature non sai come come misurare la la tensione emotiva sì quindi io gli dico yes and no lui mi dice che significa I don't know perché è perché non la sapevo perché cioè da un momento di paralisi facciali dico I don't know ma di giro sto soffrendo per te in questo momento ci posso pensare sento un lavoro il figo della sconfitta che scorre con il suo rapine e ti scioglie e come sono stati i minuti dopo ti ha detto vabbè una limonata un pè caldo mi chiamano uno sì e lo chiamano a giocare al posto tuo al posto grazie maestro e totale capisci la gioca ciao ed è finita con il vecchio hall ma scusa ho una curiosità rispetto alle case di questi che sono i divi dei divi della storia del cinema ti capitava mai tipo quando andano in bagno di dare fare un conto a casa loro tipo guardare che tipi di prodotti usano per il corpo oppure in cucina sono delle cose assurde osservargli la casa e dire micchio ma al pacino che problemi ha di dermatite che cazzo ne so ma al pacino usa il padedas due in uno shampoo e il bagno schiuma compra di un'acqua di parma non è fatta anche perché il bagno che tu usi è sempre il bagno di cortesia è nel seminterraneo il bagno non c'entrerai mai al mondo però il bagno per dire anche quelle case le vediamo solo nei film non le vediamo neanche in altri luoghi tu ci sei entrato dalla porta principale una delle più belle è quella che era di di forse lo sa Gabriele Niola mi raccontavo solo la casa di Tom Cruise che però era una casa di passaggio era un castello di passaggio Tom Cruise era un castello gotico a Beverly Hills aspetta gotico quindi cosiddetto gotico diciamo mille quando no no nel futuro no sto scassando in Beverly Hills imitano tutto certo le costruzioni egizie quelle neoclassiche e la sua era gotica tipo quelle nordiche così comunque quella lì era tra l'altro transitoria comunque era un po' spettrale sembravano un po' quelle case ci siamo un po' buttati da là c'era un lac dell'Ikea messo in mezzo è un neogotico del 1986 ricorda il Duomo di Milano vagamente comunque no ho visto quella casa lì che era abbastanza inquietante devo dire ho visto forse la casa più bella quella di Bruce Willis quando viveva che poi è rimasta a lei con Davy Moore con Davy Moore Davy Moore è uno dei più eleganti che ho visto in assoluto poi ho visto la casa di si è finito a parlare di casa è molto bella la casa di The Mask ah di Jim Carrey scusa io sono così sono un po' di legno dovevi fare un progetto dovevi fare un film con Jim Carrey io andavo a parlare del film a un certo punto mi portavo in un salone in cui c'era il bastone originale di Charlie Chaplin madonna e lui mi dice me lo porge come fosse il Santo Graal e io lo prendo cazzo un'emozione è stata perché aveva il manico consumato cioè proprio era pensava ne avesse più di uno però comunque quello era uno dei bastoni che lui ha usato sicuramente tanto perché lo tenivano in una teca e questo lui aveva quasi rompesso nelle mie mani cioè stava lì un po' come cioè non è che tranquillo non sono son matto ma assassino ma poi quanto quanto è mitomani questa gente cioè nel senso una cosa che emerge cioè tu vieni trattato come questi attori vengono trattati come divinità per una vita a un certo punto come farà magari poi Tom Cruise pensa veramente che può salvare il mondo a un certo punto assolutamente cioè vanno fuori di testa seriamente in modo patologico vanno fuori di testa se hanno troppo come Tom Cruise che ormai è capito è il superuomo oppure vanno fuori di testa quando perdono quel potere improvvisamente tutti gli yes men che per anni li hanno imbrogliati svaniscono anche loro e alcuni di questi perdono anche il denaro cioè viaggiano a un livello talmente alto di tenore di vita mantenendo security bodyguards ville da 50 stanze cose incredibili impressionanti inutili soprattutto inutili alla felicità perché sono infelici in questi un po' come si dice insomma in questi eremi eremi maggioni maggioni dice il notaglio poca terra in queste maggioni sono soli e infelici in alcuni casi poi come accade con Elvis Priestley quando lui inizio non aveva più successo lo portavano fuori dalla Columbia dove io ho lavorato per due film lo portavano all'inizio lui usciva e si nasceva sotto una coperta perché c'erano milioni di fan che lo aspettavano a un certo punto questi fan hanno iniziato a diminuire sempre di più e continuavano a coprirlo sotto la coperta senza dirglielo bellissimo e lui continua ad uscire per anni senza sapere che il mondo era cambiato e che Elvis Priestley era andato questo è tremendo nel libro racconti molto bene tutti questi ma ogni volta escono fuori cose che non abbiamo messo nel libro avete raccontato benissimo tutto il percorso è molto complicato bello da leggere da vivere deve essere stato bello complicato c'è dell'arrivo spalanchi la porta con la ricerca della felicità hai questa aurea dorata intorno per cui vai a queste feste da lettore era bellissimo leggere delle feste infatti dei meeting di lavoro in cui non si beve non si mostrano debolezze e hai di fianco di Capri o Tom Hanks cioè com'era trovarsi in quel lì da regista con l'oro addosso era molto curioso perché c'era è ovviamente molto serio c'è uno maestro che si è rock and roll il mondo del cinema non ha nulla di rock and roll eh quella era terribile quando tu hai scritto non si tocca alcol perché se no fai vedere gli altri perché gli alcolisti sono tantissimi sono tantissimi e sono visti come dei pericoli pubblici però lo sono effettivamente perché vanno a casa e si sfondano cioè un attore con cui ho lavorato non lo facciamo no no non dicevo ma un attore con cui ho lavorato ogni sera si fa una bottiglia piena di vodka ogni sera della sua vita e il giorno dopo come sta sul set? no si fa una miscela tale per cui lui riesce a essere donato nel governo per dire il tuo set e fare il suo lavoro perfettamente però la sera dai 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 alla fine il corpo lo vedi che si sta un attimo cambiando comunque è una civiltà molto implosa molto sofferente molto depressa molto molto insicura e terrorizzata dalla perdita del successo eh ma infatti perché è volatile perché le mode cambiano tutto cambia persino Hollywood che ho conosciuto nel 2005 con la ricerca di graficità era ancora una industria in cui gli studios facevano film per un pubblico di qualità e seguivano gli Oscar pochissimi anni dopo che ero lì tipo 5-6 anni dopo con l'arrivo di House of Cards che ha portato gli attori di fascia A nelle serie televisive è arrivato questo fenomeno che ormai è dilegante quello della qualità in televisione sì meno male sì meno male perché poi ha creato le piattaforme ha creato un mercato infinito per cui per chi fa il mio mestiere non c'è non c'è limite a quello che puoi fare però Hollywood è andato a installarlo completamente perché il pubblico di qualità è migrato ti sono rimasti i bambini i bambini adulti anche però che ammazzano quei film che quindi significa Marvel Star Wars Mary Poppins tutti i supereroi roba là supereroi all'infinito e quella roba lì dopo un po' non è più cinema è televisione cioè si sono invertite le cose e niente quindi no no ma fa effetto perché uno idealizza questi personaggi come delle divinità però appunto a un certo punto tu racconti che in una di queste feste Jennifer Lopez viene da te e ti dice che ha difficoltà a lavorare in quel momento che uno dice no Jennifer Lopez cioè tu ti immagini è una super star erano tutti momenti ma no se Jennifer Lopez anche se strani pure che non l'ha presi tra l'altro come osi tu proprio perché è l'amica di Will anzi lei venne ci sono le foto dell'anteprima della ricerca della felicità dove c'era proprio anche Jennifer Lopez con l'ex marito per cui è l'amica di Will Smith e per un film che io non ho fatto che è Hancock sì sì io incontriai un po' di attrici e Will voleva Ali Berry che incontrai sì che mi raccontò tra l'altro problemi molto intimi molto a volte gli americani fanno questa cosa che ti conoscono e ti dicono sai c'è un cancro scusi lei è dopo un minuto e mezzo Ali Berry mi disse sai sono stato con un uomo che era sex addicted ogni giorno andava con 15 20 donne l'ho scoperto è stato dolorosissimo e questo è risposto it's a matter it's a matter of nuance my dear Ali Berry sometimes 20 sometimes 1 now listen read this ma comunque era molto cioè ti succedono che ti dicono delle cose che dovresti dire a un amico molto molto intimo e poi ti dicono subito perché è molto diverso il modo anglosassone di relazionarsi sì però poi finisce là capito poi dopo di che non c'è mai intimità non prosegue se la rincontri dopo un mese manco si ricorda chi sei cioè cancellano anche riescono a cancellare cioè a essere molto tra e poi non sai niente non sei un numero proprio letteralmente questo l'ho molto avvertito comunque torno al quello che dicevo Will Smith voleva che io prendessi a Liberia anche perché nel film c'erano molte scene d'amore tra lui e la lei che erano due supereroi e nella percezione del pubblico bianco e anche quello di colore le coppie miste non vanno bene danno fastidio c'è un fastidio il bianco è letto con la nera o viceversa e perché per quale motivo secondo te perché sono razzisti in entrambe le parti c'è una questione penso proprio dall'essere stati uniti d'america che c'è questo spazio sì quelli erano schiavi c'è una cosa di ancestralmente molto complessa che non possiamo afferrare però gli afroamericani comunque sono alcuni portano ancora il nome della piantagione alcuni molti portano ancora il nome della piantagione si fanno l'analisi del sangue per capire a quale ceppo dell'Africa appartengono da quale provengano insomma è un mondo particolare se ci pensi un attimo c'hai capito sapere che tu è stato comunque i tuoi i trisnonni sono stati presi in catena messi su un galeone portati là e tu sei figlio di quella roba lì però fa effetto è una cosa che succede poi nel mondo reale cioè ci sono coppie miste in America bianchi e neri fa effetto che non si possa rappresentare al cinema questa cosa che comunque sia un tabù ci sono particolarmente in alcuni stati evoluti sì c'è una costa est e un po' in California se fai in Louisiana neanche gli amici vedi insieme in Louisiana no però ti fa effetto che Hollywood che sia piena costa est piena costa ovest poi abbia timore a rappresentare una cosa del genere perché devo parlare a tutta l'America allora hanno il problema di parlare all'America intera che come lo dimostrano le elezioni le elezioni è fatta di di gente che sono rimasti pistoleri è una grande Oklahoma è una grandissima Oklahoma anche terribile perché 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 livello culturale di conoscenza proprio del spirituale è bassissimo sono pagani è proprio è il medioevo che segue all'impero romano cioè è un momento cioè sono proprio sono non so sono fermi a una a un'era che deve essere ancora tutta e e l'industria del cinema è migliore di così cioè tu per esempio per quale motivo sei riuscito ad entrare in questo modo a Hollywood dalla porta principale cosa era stato apprezzato del tuo lavoro che avevi fatto in Italia per darti questo credito così grande è quello You 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 di Will Smith racchideva tutto il credito che aveva fatto con lui avessi visto qualcosa di fortemente autentico da parte del regista che non solo era abile con la macchina alla presa ma sapeva perché questo lo dice spesso che nessuno sapeva raccontare le relazioni umane come me questa è una frase che lui ha detto e me la tengo per cui lui in un film che era così incentrato nelle relazioni umane e venendo anche da un paio di film flop in cui provò a misurarsi nel campionato dei film drammatici in cui la relazione umana è importante tipo lì sicuramente e anche in questi gradi di separazione che nessuno ha visto quindi lui però anche i film che gli hai portato come esempio nel senso che avevi detto i ladri di biciclette sì io gli scrissi una lettera in cui gli feci degli esempi di riferimenti che secondo me erano necessari che lui vedesse ovviamente non aveva visto nella bicicletta ma non ce lo vedi Will Smith a dire la moglie senza conoscere Gabriele prima ma sai che stasera c'è l'adri di biciclette all'azzurro scipione siamo a Roma andiamo Silvano Agosti how you doing come si un bel TRD pacchetto di sigaret l'aneddoto di fare la sigaretta gli aveva rubato le sigaretta per cui gli feci vedere anche dei film tra l'altro anche nel percorso anche per fare sette anime che però spesso rigettò perché comunque lui è è un rapper viene da Philadelphia e viene da Philadelphia a Los Angeles per diventare la più grande star del mondo e il suo obiettivo era questo qua quindi si fa una un breakdown insieme al suo manager di tutti i film che hanno avuto maggior successo della storia del cinema e trova gli elementi in comune e li mette insieme e lui capisce cosa deve fare in funzione a questi ingredienti quindi la sua scala verso il cinema è è dettata da questi ingredienti che infatti sono in serie c'è humor c'è sex c'è un po' di sesso un po' di humor c'è commedia e c'è fatta scienza e ci sono gli alieni queste cose c'è tutto c'è tutto sì però messo in forma di commedia messo in forma di ironia ha fatto un algoritmo lui ha fatto sì e da questo algoritmo uscì effettivamente fuori Independence Day che è il primo film che veramente lo lancia che è bello grandissimo successo che c'è un gran film per l'altro c'è l'umorismo c'è la storia d'amore lui che deve chiedere a lei di sposarla esattamente possiamo dire un capolavoro capolavoro a me è piaciuto tantissimo capolavoro totale del cinema e l'intrattenimento di quel livello bomba assoluta e lui ci arriva così quindi non da cinefico ma proprio da come lui lui è uno molto intelligente che però ha una grande capacità analitica che è fascinosa da ascoltare e che lo applica al suo lavoro però a un certo punto ha preso delle grandi toppe secondo me proprio perché non è cinefilo proprio perché insegue il box office come 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 ultimo traguardo e mai l'arte e mai invece cioè anche il film che si è fatto insieme lo si è fatto la ricerca della felicità per vincere un Oscar cioè quello è il fine non era il box office ma era vincere un Oscar effettivamente fu candidato e per pochi voti non l'ha vinto quindi ci aveva pure preso effettivamente cioè era giusta la logica la cosa che era imprevista era il box office cioè nessuno pensava che il film andasse così bene e che prendesse le fasce dei bambini perché ha incassato 300 milioni di dollari nel mondo sì 300 milioni di dollari nel mondo 160 in America che per un film come quello lì è tantissimo in quegli anni nel 2006 era una cifra una cifra enorme un po' come era accaduto per me per l'ultimo bacio tre anni prima quattro anni prima cioè in realtà l'ultimo bacio apriva la finestra su un cinema che non incassava più da molto tempo e praticamente riportò il pubblico al cinema sì io ho ripetuto proprio come coazione ripetere involontaria la stessa cosa senza averne la consapevolezza sì in America cioè se hai ripetuto la stessa identica cosa io sono diventato dal nulla il golden boy il mio film è stato visto anziché in tutto il paese in tutto il mondo in tutto il mondo letteralmente ma e ci pensavi quando ci fu la distribuzione di Ecco Fatto quando andavi a chiedere come racconti nel libro al quattro fontane mi pare e dicevi come andiamo a spettatori oggi e ti dicevano guardi 15 ma non allo spettacolo nella giornata lì cioè per un allora giovanissimo reggirio aveva 27 avevo 30 anni secchi con Ecco Fatto io ho esordito a 30 anni avevo 30 anni comunque giovane a vedermi ero un ragazzino sono avuto un 15enne a vedermi però avevo 30 anni cosa dicevi ok non c'è problema il prossimo il prossimo film il prossimo film si salirà ancora a di là di questi grandi incredibili salti che hai fatto con l'ultimo bacio in particolare e con la ricerca della felicità nella crescita diciamo i gradini un po' più meno alti cosa porta avanti un regista per dire ok vediamo il prossimo se va meglio vediamo il prossimo se la cosa che porta avanti un regista è la qualità del film che ha fatto perché che ho fatto era nato come tv movie uscite in sale perché fu scelto da Barbera al festival di Torino e l'amicato decise di farlo uscire nelle sale però sette sale senza promozione senza manifesto decente niente c'era buttato dentro quindi io scopri io che avevo pensato al cinema mai per avere successo e mai per incassare ma per finalmente esistere cioè era proprio una cosa molto legata alla mia necessità e urgenza di raccontare al mondo chi fossi perché come racconto abbastanza lungamente nel libro ho avuto un'adolescenza talmente chiusa in un isolamento anche volontario anche piacevole perché era contemplativo era francescano era tante cose però non c'era non c'era il rapporto con la società con il mondo con le ragazze che a un certo punto diventarono per me un'ossessione cioè io volevo l'amore e non sapevo raggiungere una ragazza che avesse interesse in me perché inizia a balbettare non sapevo neanche chi fosse dei Beatles era un disadattato e parlavo di piccioni fermo paletta rossa i piccioni si alzano i muri vabbè quindi insomma in questa fatica di crescere c'è tutto c'è tutta quella voglia anche così impetuosa che c'è nei miei film e c'è un motivo è quell'impeto è l'impeto che scarica tutta l'energia implosa e sofferta in quegli anni in cui volevo esistere poi ci sono gli anni in cui ho voluto diventare un regista e l'ho fatto attraverso molte forme particolarmente in televisione ma mai fiction erano sempre delle formule che per un caso straordinario perché oggi non c'è quell'opportunità però per un caso straordinario io prima con Minoli che vide quello che avrebbe potuto fare nella vita e poi perché c'era un programma come Ultimo Minuto che metteva in scena ricostruzioni docufiction questi ragazzi non sanno cos'è Ultimo Minuto questi giorni Ultimo Minuto è un cult che ci ha emozionato e anche traumatizzato a molti di noi tu giravi i contributi di Ultimo Minuto proprio le scene le ricostruzioni io ne ricordo una di una ragazza che camminava non so forse sulla balausta sul corrimano cade e le finisce il manico della scopa che esce dalla bocca e io vi dico la cosa ero a casa di mia nonna ancora me lo ricordo e siamo saltati sulla sebbio e ho detto madonna ma cosa stiamo vedendo è una cosa terribile e tu giravi quei contributi lì che è stata una scuola enorme di formazione per me sì perché avevo a che fare comunque con delle truppe molto cioè io volevo fare James Cameron ma con però alla RAI con Ultimo Minuto 200 lire per fare la roba là per cui mi ingegnai così tanto da trovare uno stile un linguaggio che fosse teso e in carico di suspense e avesse una drammaturgia in tre atti che comunque potesse ricostruire in sette minuti quel tipo di storia con tutti i limiti enormi però quei limiti là sono diventate frecce al mio arco cioè sono diventate munizioni che poi io ho saputo sparare dopo perché ho trovato un linguaggio ho trovato una visione registrica ho imparato molto anche proprio nella messa in scena povera di cose che erano in realtà macroscopiche importanti perché c'è un non so un camion che si rovescia su un'autostrada e finisce in bilico su un viadotto valla a fare valla a fare oggi ma ti credi certo con i cavi le grubate ma poi con la RAI delle cose del backstage veramente ma già all'epoca succedeva tu andavi a chiedere alla protezione potremmo avere per cortesia questo manico di scopa arrivava quella della RAI guarda purtroppo non ce l'abbiamo il manico di scopa costa troppo ti abbiamo trovato sta cosa che ne è la stessa però se tu lo puoi fare bastare il modo in cui erano fatti era molto artigianale molto artigianale però sono quelle cose come disse nel famoso discorso Steve Jobs sono i puntini che mentre lì mentre percorri quelle tappe sembrano avere poco senso ma in realtà hanno un senso enorme quando poi li colleghi tutti quanti quando li colleghi tutte e allora quello del linguaggio scoperto lì piuttosto che la velocità di pensiero nel risolvere i problemi sul set di un posto al sole dove fui mandato da Minoli per mettere in moto questa macchina della RAI che era ferma che era ossidata e impolverata però per 5 mesi cercai di rimettere di far nascere questa struttura di soppopera che in Italia non si è mai fatta però feci quel lavoro lì poi andai a fare altro perché dopo 5 mesi ero ero esausto dal set di un posto al sole perché è un set che stanca posso immaginare sì perché poi gli attori neanche mi ascoltavano non avevano capito che c'erano davanti ah oh è perché ancora ah ragazzi ma io io ho girato l'ultimo minuto c'è capito la signora con la scopa in bocca non so se ti ricordi l'ho fatta io quindi però eravate tu solli ma cioè una specie di Vietnam dopo Vietnam dei registi esatto quanta formazione però se sopravvivi a un posto al sole poi fai il grande cibo ma io quando ho fatto adesso la serie per Sky che è uscita a dicembre tratta da a casa tutti bene in realtà mi sono ritrovato a girare con una velocità di pensiero altissima e realizzo che quella velocità risolve i problemi mentre arrivano i problemi sì sì cioè non è che hai un momento in cui il problema fermiamoci sediamoci parliamo no è tutto è tutto un movimento senza sosta quella roba lì mi viene secondo me da un posto al sole secondo me senti ma a proposito di formazione in questo podcast mi viene rimproverato spesso che cito troppo il liceo Mamiani di Roma sappiate che io e il maestro Gabriele Muccino siamo stati non solo al Mamiani ma nella stessa sezione con le stesse produzioni sappi Gabriele che il 99,2% dei nostri ascoltatori in questo momento ha tolto ma per tutti e 400 no in realtà non è vero perché è di culto non tanto perché Edolo ha fatto e lo è perché lo conosco ma è di culto perché tu lo hai reso di culto cioè quanto qual è stato il ruolo del Mamiani e del quartiere Prati nella tua formazione nella tua formazione per quello che poi hai messo in tutti i primi film tu hai reso Prati un luogo dell'anima sì perché era il primo luogo Edolo ha tremato mentre te l'ha detto io lo conosco ha vibrato leggermente perché è vero ma perché è vero ragazzi cioè perché Prati è la qualità Roma era muciniana a un certo punto sul serio ma veramente è diventato un aggettivo Roma Lord Roma Prati però l'hai resa famosa dietro da Parolino pur non essendo perché Prati non c'è il tracazzo voglio dire Will Smith comunque si è visto il quartiere Prati cioè ha imparato qualcosa di molto importante riguardo questa città comunque no perché io sono nato e cresciuto a Prati fondamentalmente quindi per me la vita era lì cioè le colonne cioè tutto il resto erano colonne d'Ercole invadigabili dove era la colonne d'Ercole la provilla dove era il limite dove era il il limite per me era poco dopo Balduina che è dove io sono nato peraltro meno male che la includi cioè verso Torrevecchia come si chiama? sì 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 Torrevecchia Torrevecchia lì lì finisce il videogioco lì quindi è andata a Balduina fino al massimo un pochino di Pontesisto molto questa linea era molto ed era un'altra Roma magari erano molti dietro non è anche c'era il Papi no sapete che è quel monumento dentro con i buchi devi pensare che Prati è il Vaticano perché sono stati fatti intorno al Vaticano è un quartiere edificato perché c'è il Vaticano oltre da questa parte del Tevere quindi in realtà stai cioè la Roma centrica è quella immediatamente vicina al Tevere sì non ti lontani troppo ti perdi però vedi quanta verità c'è anche nelle dimensioni più locali assolutamente quanto poi può diventare un racconto universale anche perché in quegli anni c'era l'Eco Cannone il che per lo racconto cioè vuol dire che gli affitti erano bloccati gli affitti delle case cioè una casa da 150 metri a Prati 150 metri quadrati a Prati non poteva avere un affitto sorbidante erano ah certo questo faceva in modo che nello stesso palazzo di Prati un quartiere che oggi è un quartiere di Ricchi c'era letteralmente il figlio del meccanico del fruttarolo dell'avvocato c'era un grandissimo un grandissimo melpot non so come chiamarlo una una grandissima vicinanza al a tutte le fasce della società cosa che poi è andata scomparendo perché poi sono rimasti sempre più allontanati chi non poteva permettersi questo succede in tutto il mondo a San Francisco a New York ovunque cioè chi non può permettersi in quei pressi va a migrare lontano e quindi si esasperano proprio gli ascensori sociali per quello urlano molti i tuoi attori negli appartamenti di Prati perché comunque c'è tanta tensione perché quando arriva la bolletta ragazzi c'è la scena dell'F24 tagliata nell'ultimo bacio loro sono appena entrati e arrivò sempre lì impazzito però tu hai raccontato sempre in modo molto quasi unico direi negli ultimi vent'anni la borghesia soprattutto la borghesia sempre più ricca sempre più in modo più preciso in modo anche cinico cosa che invece il cinema a un certo punto ha smesso un po' cioè in Italia si è smesso un po' di fare spesso registi di origine borghese così trovano grande fascinazione nell'andare in altre parti di Roma raccontandole e poi allo spettatore quello che arriva è ma perché l'hai fatto se non stai raccontando una cosa che conosci perché sembra molto poco autentico il racconto l'insieme di opere prime c'era Visconti e Vittorio De Siga era un'altra cosa era un'altra cosa infatti c'era Visconti che racconta Rocco Stavratelli nulla però era comunque interessante raccontare l'Italia degli stracci dei cessi come disse Andreotti e come viene citato anche in Ceramo Tanto Amati perché il mio realismo tirò proprio fuori questo che poi abbiamo sentito dirlo anche quando Gomorra tirò fuori quella quella malavita si disse le stesse cose ah Gomorra fa vedere all'estero esporta il marcio dell'Italia ma non è non è vero le stesse cose che si distrano su Gomorra si dissero anche sul realismo sul realismo che voleva essere coperto e nascosto particolarmente Danderotti che era ministro della cultura ricordami giusto quindi in realtà la grande esplosione del cinema italiano aureo di quegli anni arriva dalla Francia fondamentalmente che riconosce questo prestigio enorme quindi come spesso succede rientra dalla Francia e diventa il cinema più importante al mondo dopo quello hollywoodiano la nostra industria è stata floridissima abilissima anche nel mutare e nel raccontare la società gli individui e gli antieroi soprattutto perché è un cinema di antieroi il nostro a differenza di quello americano che racconta invece proprio il percorso di chi deve farcela e finalmente ce la fa sì la carriera e il raggiungimento del successo è proprio l'entessuto della società americana che intravede nel denaro un valore morale mentre noi non abbiamo questa 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 cioè noi il denaro lo associamo più alla a chi ha fatto qualcosa di distorto di distorto è una cosa da nascondere è da nascondere cioè il petroliere gira con la panda c'è una stannata beh perché siamo molto più cattolici siamo cattolici le petroliere gira con la ross royce perché lui perché è un valore molale deve ricordare che lui è petroliere come dico petroliere ma questo vale anche per il movie star ma c'è la movie star gira con il bodyguard con la super macchina tutto quanto esce fuori cioè è proprio uno show off pazzesco e quanto più si è poveri originalmente quanto più lo show off diventa esponenzialmente profondo infatti i rappers gli afroamericani sono i i più visibili in questa ostentazione del denaro attraverso l'oro le catene gli orecchini i denti con gli amanti abbiamo imparato qualcosa perché il riscatto sociale vero era quello di mostrare i soldi che ho un amico di Zor Pignatara che è uguale cioè di fatto appena vanno a fare soldi la macchina la cosa la roggio c'è tutta sta roba qua perché comunque evidentemente la povertà segna talmente tanto l'anima che quando poi hai i soldi li vuoi far vedere agli altri perché io ce l'ho fatta e a proposito di notare gli stili delle persone dei personaggi cioè c'è un momento straordinario in come te nessuno è mai tu lo chiami gli dedichi proprio un cartello che è la questione dei vestiti tu praticamente fai tutta quanto una divisione dei giovani romani dell'epoca ma dei giovani secondo me poi di tutta Italia e tu fai dire a Silvio a Roma ci dividiamo in fasci alternativi b-boy e precisi che poi sarebbero i pariolini allora tu sapevi che stavi facendo una specie di dizionario illustrato dell'adolescenza con quella scena perché veramente io la ricordo come una scena epica di quel film era la prima volta che vedevo una schematizzazione di gruppi sociali fatte in maniera veramente molto lucida e quella è una scena che mi ha veramente emozionato del film e poi ti vorremmo anche chiedere la sapresti rifare oggi? cioè con i cinquantenni con i cinquantenni cioè però parietà se sapresti rifarla cosa sono diventati oggi? i fasci? i b-boy dell'epoca? i cinquantenni sono sono non lo so devo fare io vorrei fare un film su di me come l'ho fatto quando ho fatto l'ultimo bacio perché poi in realtà si è stancato di me mi confondo mi divento donna uomo vecchia bambino di fatto sempre io con le mie paure erosi fragilità sono al centro dei miei film e il cinquantenne è un'età che è molto difficile di raccontare e lì si è esternoiosa però se uno la scardina veramente poi comunque lo spirito lì è divertente cioè dire con quella leggerezza però al suo modo è quel modo di sì perché il cinquantenne è anche pateticamente un po' comico che non vuole non vuole riconoscere stesso che è un passo da 60 questa cosa è tragica e il cinquantenne la vive malissimo presente però quella quella è una grande eh quella c'è da lì in poi si è iniziato a chiamarli così penso a Roma non so come comunque i parolini oggi era qualcosa che è stato proprio codificato in quella scena era autentico cioè mio fratello mio fratello mio fratello come diceva Fiorello quando lo imitava mio fratello ricordate l'imitazione di Fiorello era geniale era avanti proprio fratello e lui eh sì sì no no comunque lui mi raccontò di queste cose che erano molto simili a quelle che avevo vissuto io non c'erano i b-boys a Edicola Fiore lo faceva eh ok all'Edicola Fiore penso sì credo sì o forse a Viva Radio 2 a Viva Radio 2 a Viva Radio 2 c'era ancora il suo Baldini dove c'era Baldini erano quegli anni là comunque quella differenziazione dei vestiti oggi è un po' cambiata però una cosa che è rimasta identica sono i parolini è vero i parolini sono rimasti identici anche nel resto d'Italia tra l'altro cioè tipo anche io sono di Catania per esempio esatto ci sono i parolini cioè che sono i monfiani da noi si chiama da Via Monfalcone che è una zona dove però sono come i parolini quindi in realtà sono categorie quasi universali San Carlinio e Milano e tra l'altro scusate hanno la camicia bianca li colletto un po' così ma è l'altra categoria che resta da sempre le zecche e le zecche i metal sì i metal pure non tramontano mai però volevo dire anche che per esempio Eccce e Bombo che è un altro film super generazionale pure quello è ambientato a Prati e anche a Nanni Moretti dicevano ma come tu stai raccontando Prati com'è che poi questa cosa invece è diventata un caso perché anche io sono un otarchico è ambientato a Prati quindi c'è in realtà in Prati questa dimensione universale e quale altro podcast è ambientato a Prati indovinate un po' indovinate un po' indovinate un po' bene io ringrazio Gabriele grazie mille per essere stato con noi ringraziamo molto anche Gabriele anche Gabriele Niola ha scritto il libro sì il libro consigliati cioè in senso ti riconcilio molto complimenti a te che l'hai vissuto tu che l'hai tirato fuori Niola è stato molto bravo a non schematizzare questa intervista perché è un libro intervista però di fatto lo leggi è vero non sembra un'intervista ti dimentichi di questa cosa perché ha intercettato tantamente tanto le informazioni che davo per cui tu pensi di leggere perché sembra un po' a capitoli per film ma in realtà è un inganno cioè tu leggi dell'ultimo bacio ma ti ritrovi a leggere di cose che sono accadute dieci anni dopo sì per cui tutto quanto questo uscire un po' come quando io parlo cioè uscire di traiettorie ed entrare ne fa un'obbriacatura di informazioni che rende molto vivo il lettore che viene anche inondato di informazioni che chi anche chi fa cinema in Italia non conosce è vero infatti è il motivo per cui ci sono cose tecniche che sono molto tecniche molto molto specifiche e che solo empiricamente io ho conosciuto perché nessuno te le insegna quelle cose che io che tu hai scritto infatti è una lezione di cinema ma anche di vita e poi appunto anche un ottimo motivo per comprare perché c'è un aneddoto che include te Madonna che ci prova con te e Chris Rock che ti viene a rompere il cazzo ma per questo bisogna proprio comprare il libro per scoprirlo io che assertavo con Madonna e Chris Rock che effettivamente mi rompe il cazzo quello è vero va bene grazie mille Gabriele per essere stato con noi grazie a tutti Tahira, Alice Cecilia e Carmelo grazie mille ci sentiamo la prossima settimana con la nuova puntata di Cashmere grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.